Boh, io ricarico. Mamma mia che tensione. Sì, vecchio l'ho desfato. Grande. Puttana, 95 metri su camidano. Non so se fosse una testa. Invece non è una situazione un po' complicata qua. Sono un po' circondato tipo. Ma che dicono qua? Ho visto, lo cazzo sei andato. Eccolo qua. Madonna, ti ho inculato a faccia da merda. C'era uno tipo, dentro era una casa distrutta. C'erano solo i pezzi attorno del muro. E io sapevo che c'era uno. Gli uccideva tutti. Gli è buono. Ho detto, beh, fanculo, sarà di 30 metri e così. Tipo, era dietro alla porta. È entrato, sgattaiolando. Per fortuna che l'ho sentito. Devo strisciare la neve, no? Io guarda, mi ha visto quello là. Buono, ti ho inculato, ti sei girato Frankenstein. È il migliore della loro squadra. Eh, infatti. Adesso noi dove siamo? Dobbiamo distruggere quelli lea, attaccare quello là. Quindi in teoria dovrebbero essere tutti qua loro. No, no, sono un coglione. H.D. Ho preso uno al volo che correva a 140 metri. Ma questo era un tiro potente. No, ti gas abuso. Tiada, sono però, tra gli uniti di tutti. Ok, pensavo se ne fosse qualcuno Buono Mi sa che sono morto del tutto Come morto del tutto? No, ci ho messo due ore a morire No, no Stavi moreno di sanguato, orragamente Dai, i miei amici sono di squadra, cazzo Sono in una posizione di merda Buono Dai, andate fuori dal cazzo Io non vedo dove sono quelli che difendono gli obiettivi Vedo solo quelli che nascono Quindi, sinceramente, non posso neanche dare troppo una mano No, no, no Baccadino, ci sono altri Madonna, ne ho visto un'altra che mi sta mirando L'ho ucciso Sì Un altro ancora Baccadino Non ci si trae in Di buon cinque secondi Baccadino Mi sento gasato come pochi Eppure stiamo perdendo Questa è la prova come questo gioco sia un gioco di squadra Quindi non è Quella una singola persona fa la differenza No, questo è tirato di marro Scusa? Pensavo di aver bucato uno, invece niente Dico, mi ha sparato Via, 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 via Non ho neanche visto dove mi ha sparato Mi sto avvicinando lo schermo come un deficiente Eh, infatti Immagino, questa mappa qua poi è Proprio eclatante Ecco, questa cosa qua Ma volte ci rimango di merda Cioè, c'ho l'anticarro Becco uno perfetto come stavano in incontro Bam E non lo ucciso L'anticarro mira leggermente più in alto sempre di quanto spari Ok Fidati C'ho fatto a non prenderlo? Si è ritirato come una lataipa Allora, tra le trincee Tira fuori la tua testa che non ti prendo da qua Faccia da marda Bragantini avrà passato Natale studiando anche di buono alla vigilia E alla cena Tutti i giorni Ma non ce ne sono altri qua che mi sparano Potente Poi i nostri amici avanzano E di fatto io muoio Figlio di putt Madonna C'è pieno di gente che mi sta sparando Va, cadi 147 metri Un altro è morto No, c'è Colpo in testa a 130 metri Vecchio Abuso Sono ancora primo Mi sa che non c'ho più munizioni ormai Non ce l'ho ancora un po' No, non sono più primo Però hanno uccisi 23 Che palle Ultimamente continuo a crepare Sono, vedi, sono un kill però team 22 E difatti sono più o meno metà Gioco di squadra Colpo in testa a 153 metri Buuuu No, questo l'ho sbrato io Yeah, ho ucciso Bruno Vaca di colpo in testa a 187 metri Puttana Ah, questi sono cecchini Non quelli di bondi adesso Ma sa faccia adesso Oh, cazzo, ce n'è uno qua Cazzo che mi ha sparato Ma che cazzo mi sta sparando? Cazzo è automatica questa No, mi ha ucciso Mi ha ucciso Sean Ray Hai presente il fucile che avevo prima Se non è automatico? Adesso l'ho usato io Era automatico Non so perché Tipo era proprio un fucile da saldo Vraggamente Sono Con un rinculo pazzesco Dai, lo saile Ah, sono qua anche Qua c'era anche il tipo che mi ha ucciso Che c'è se c'è ancora Cazzo fa sto qua 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 cazzo si trova Eh, sta in cover, sta in cover C'aveva ragione Eccolo qua, guarda Madonna Mi sa che è la prima volta Che uccido qualcuno Con colpo Corpo a corpo Ma ti giuro Il machine gun com'è? Eh, è figo se Sì, è figo Dio, mi ha ucciso un machine gun No, ma era fisso questo Va, lo provo Sì, vai, se ce l'hai la possibilità prova Dei piazzarti Spari colpi lenti Se sono lontani Lo piazzi come il fucile E quello pesante Sì Ma questa notte è proprio la prima volta che giochi Io, sì Buono Baccadì sembra veramente potente Mh, mh Cosa? 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 Aspetta Sono secchino la che mi spara No, devo ricaricare Ricarica Sono stato a distanza veramente uscena Ma non lo so perché non lo prendo Dai, ricarica, ricarica È ancora là No, ma non ci siamo Ne ho ancora Figo fago Cazzo 215 metri Putt Non stavo neanche respirando Nien chi lo trattenevo di fiato Devono No, perché? Puoi rispire quanto vuoi Però comunque devono uscilla un pochettino Comunque questa settimana dobbiamo fare Pranzone potente Da esame mi dicono Quando? Adesso quando andiamo su All'Uni Bisogna Quando è che Quando è che voi avete l'esame? Giovedì? Ah, no Giovedì è quello di Mater Io lo faccio Hanno spostato quello di Informatica 17 Per quello che ti dico di provarlo Ah, venerdì Sì Ho sparato una stronzata Che non era un giocatore Là c'è uno Infatti per quello ti dico Prova, la vieni su Fare un giro Tanto siamo lì comunque Se vuole vedere come la gente li ammazza da qua Mi metto anche io Non è possibile Vado avanti e mi vedo una sigla Adesso spera anche io un culpulo Questa qua è una persona Madonna Però un mitragliatore mi piace perché posso sparare a casa Dai più potente Va cadì L'ho desfato Uno prima l'ho mirato Pa 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 L'ho desfato Eh beh Ma chi ne ha uccisi adesso? Beh, un altro ne ha uccise Eh no No, questa qua Fidati che questa mappa qua è stra difficile all'inizio Se non la conosci Cioè se ci ha giocato poco Più che altro Poi conoscela quanto vuoi Perché alla fine non è tanto Non puoi imparare tanto memoria Però è veramente difficile Madonna, devo cucciarmi Devo ricaricare Cioè non era un altro che sparava Sono dentro al bunker Quello più dietro Quello tondo Eh, sì Non so se dove tu sei adesso Lo sto guardando Lo stai guardando? Da che parte sei? Boh, sono più o meno di fronte Sono... Facca di colpo la testa Guardavo fuori Sono metà casco Sono ad F6 In mezzo ad F6 F6 Questo è... Ah, c'è dall'altra parte Io sono proprio... Guarda Sai che sono l'unico In E4 Sono morto Che cosa succede là dietro? C'è qualcuno che sparava Come mitragliatrice Questo qua correva troppo Ma come team overhaul Sono in mezzo Beh in arma 3 Nel multiplayer C'è gente che si metteva a uccidersi Cui cecchini a 800 metri C'è, fa quanto te Quanto è lontano Quante munizioni ho? No, ne ho ancora 800 metri Tantissimo È tipo l'uccisione più lunga Che mai è stata fatta In vita reale È tipo supera I due chilometri e mezzo Come lì sia un pilone È una testa Là c'è uno Tipo se io spammo Spammo il grilletto No, come è un perso Beh beh Questa cosa sta partita devastante Screen anche di questa Buon, che dici? Basta Sì, dai Buon butè Grazie per averci guardato Ci vediamo alla prossima Per un altro po' di Red Orchestra E guardate anche i nostri Altri video Soprattutto quelli in inglese Per coloro che Abbiano abbastanza skill E ci vediamo alla prossima Ciao butè